Si chiama Demashow e prossimamente lo vedremo in onda anche su TFN. Si tratta di un talk show musicale dove ci proietta in un mondo variegato e stravagante, condotto dal suo organizzatore Biagio De Martino. Da alcuni anni il programma è sulla ribalta nazionale ed è utilissima affinché il futuro produca uno o più cantanti per ogni regione. Dunque prossimamente seguiremo questa vetrina di talenti passo passo nelle varie puntate che vanno in onda in tutta Italia sul canale Boom Channel del Munks di La Sette al numero 68 del vostro telecomando. È un programma di intrattenimento dove proviene gente da tutta Italia ad esprimere la propria qualità, la propria capacità artistica. Noi diamo voci a chi voce non ha, che è stato in sordina pur meritando grandi apparizioni, grandi palcoscenici e quindi noi diamo possibilità a tanta gente proveniente, ripeto, da tutte le regioni d'Italia, ma non solo d'Italia perché molto spesso vengono persone dall'estero, dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Germania, ovunque. Quindi partono appositamente per venirsi ad esibire a questo Dema Show. Penso che ognuno debba esprimere quello che sente. Non posso imporre una canzone nello specifico perché poi mi sentirei da un lato in colpa, dall'altro lato penso che poi abbia rotto gli schemi, nel senso che io voglio che ognuno di noi porti il massimo, cioè il massimo di loro stessi. Quindi dico ognuno che esprima quello che sente. Poi il pubblico, la diversità, per esempio, prima c'erano tanti concorsi, tanti festival dove cantavano i ragazzini e il pubblico era adulto. Questo è l'esatto contrario. Abbiamo un pubblico giovanissimo e i cantanti sono over 50, quindi persone scelte e reclutate appositamente proprio per dare uno sbilanciamento a questa realtà che abbiamo sempre visto nei festival. TFN, Telefuture Nissan, io vi seguo. Sono contento anche di seguirvi e sono contento anche che anche voi fate parte di questo mio, diciamo, progetto artistico con le puntate che mandate in onda.